Buongiorno a tutti, con il video di oggi proseguiamo nella lettura e nel commento del diario del generale Roatta, ancora per poche settimane capo di stato maggiore dell'esercito, che ci offre un spaccato particolarmente interessante, seppur ai limiti del grottesco, degli scenari successivi alla proclamazione dell'armistizio con gli anglo-americani e la cosiddetta fuga al sud degli alti vertici politico-militari italiani. Iniziamo subito col 12 settembre, abbiamo già visto come ormai il governo, la corona si è insediata a Brindisi, hanno avuto qualche contatto con le autorità anglo-americane e vi è avuta una certa tentativa di offrire qualche collaborazione. Sappiamo che la collaborazione sarà sempre a singhiozzo, col contagocce da entrambe le parti, perché sostanzialmente gli alleati non si fidano, perché gli italiani non sono nella condizione di poter aiutare quanto si vorrebbe, visto il Consiglio che la situazione del paese è completamente spaccata, in cui l'effettività del Regno d'Italia, ormai sostanzialmente il Regno del Sud è limitata a poche province italiane e allo stesso tempo a pochi reparti ancora liberi di manovra. Vi sei consigliato che nel frattempo le resistenze che si sono susseguite in varie realtà nazionali e oltremare si stanno inevitabilmente spegnendo per tutta una serie di motivi che sono ovviamente evidenti sotto l'aspetto organizzativo, logistico, tattico, strategico, che appunto non ci si è pensato fino all'8 settembre e poteva con una bacchetta magica risolversi dopo l'8 settembre? Ovviamente no. Passiamo al 12 settembre, ricordiamo come Roatta parli sempre in terza persona, quindi molto attento all'analisi del quotidiano, cosa mangia, quando dorme, cosa compra, le varie relazioni personali delle attività e sembra un po' come se non fosse in realtà il capo di stato maggiori dell'esercito perché in queste righe traspare veramente solo in chiaro scuro la realtà effettiva delle truppe, delle situazioni, delle possibilità, delle prospettive, ecco, delle prospettive di poter in qualche modo determinare, seppur con mille condizionamenti, gli scenari politico-militari della realtà inevitabilmente cobelligerante con gli anglo-americani. Ma arriviamo al 12 settembre, notizie di movimenti nemici su Bari e da Bari verso Brindisi, che l'aviazione rileva poi inesatte. Un certo numero di reparti paraguotisti tedeschi è ancora nella zona Altamura, Matera, Gioia del Colle. Scorazzano qua e là e compiono interruzioni. Altri reparti maggiori sono nel Foggiano. Le intenzioni non sono ancora chiare ma sembra si possa escludere che le divisioni della Calabria procedono verso le Puglie. Scontri di punte anglo-americane con tedeschi a nord di Taranto. Rimane ferito il gennaio inglese comandante la divisione. Perderà un occhio e probabilmente la vita. Situazione a Napoli-Salerno incerta. Non è ben chiaro se Napoli sia in mano alleata. Certo che gli anglo-americani hanno scelto i punti meno opportuni. Potevano consultarsi con noi e sbarcare nella piana del Volturno. Queste offerte di collaborazione con il seno del poi sembrano non solo grottesche, sembrano quasi offensive. Visto il Consiglio che lo Stato Maggiore dell'Esercito e il Comando Supremo non si è preoccupato di predisporre delle adeguate difese a Roma o comunque nella zona del Lazio. Essi in qualche modo si ha la tragodanza, la sfacciataggine di ipotizzare dei possibili consigli ai comandi alleati che nel bene o nel male comunque stanno conducendo una guerra logisticamente difficile con dei problemi di tante tipologie e comunque seppur la campagna d'Italia sappiamo che sarà lunghissima comunque hanno dei successi che ovviamente qualora ci fosse stato dall'altra parte comandanti come quelli italiani lasciamo perdere neanche se ne sogna. Messaggio Roosevelt Churchill a Badoglio e sua risposta. Si annuncia l'arrivo di una missione inglese e si vocifera che Badoglio, Ambrosio e i tre capi di Stato Maggiore andranno a conferire con Eisenhower, quindi lo stesso Roatta. Si danno ordini per iniziare operazioni da Brindisi Taranto verso nord con colonne autocarrate. Do disposizioni dirette, qui parlo in prima persona, all'eccellenza Lerici invitandolo anche a provvedere perché la gente sia più pronta e il complesso della vita sia più consono alla situazione. A Brindisi vi è meno atmosfera bellica di quella di quanta ce ne fosse a Roma un mese fa. Punto esclamativo. Arrivo dell'Accademia Navale da Venezia. Si dispone affinché si inserisca nel fronte a mare. A Cina si sente dalla radio che Kesselring ha istituito la legge marziale nel territorio occupato delle sue truppe. Viene comunicata pure una disposizione del comando della città libera di Roma. Dalle misure Kesselring appare che alcune autorità militari italiane sono in qualche modo a contatto con quelle tedesche perché rispondono dell'ordine e che non si compiano atti di sabotaggio. Varie radio divulgano le condizioni di armistizio, quelle contrarie le commentano nel modo più violento. Questo può avere un effetto pernicioso, perciò propongo a Rossi di fare presente agli alleati la convenienza che si comunichi in qualche maniera essere le condizioni di armistizio superate dagli avvenimenti della serie. A Berlino si è costituito il fascio, evidentemente il vecchio era stato disciolto, con tre capi del tutto ignoti. Un governo fascista costituito non si sa dove e che parla in nome di Mussolini, o per meglio dire formato in nome del Duce, incita i militari italiani ad affiancare le truppe germaniche. Invita altresì a ciò gli operai eccetera. Sarebbe certo doloroso se i reparti italiani venissero a trovarsi dalle due parti della barricata. Quanta verità in questa profezia, però in questo caso viene posta come un elemento limite, in realtà la verità è già sussiste. Per ora si sa solo che due battaglioni Nembo in Calabria hanno seguito quelle divisioni tedesche con le quali avevano già combattuto in precedenza. Come situazione sappiamo che le radio della marina non comunicano più con la Spezia e con Rodi, che deve essere caduta. Si comunica con Corfu dove un comandante di reggimento che dispone di 4-5 mila unità si dimostra vigliaccamente terrorizzato di fronte a 400 tedeschi e con la Sardegna. Lì regna una certa titubanza perché secondo un radio basso continua indisturbato l'esodo della 90esima divisione in Corsica. Stamane è però partito per Sardegna-Corsica in aereo un ufficiale con ordini precisi. Siccome domani ne parte un altro con nuovi cifrati, gli altri sono in mano dei tedeschi che inviano ordini falsi qua e là, ribadisco disposizioni energiche per fare fuori nelle due isole truppe germaniche. Ormai, dato il loro contegno, non c'è altra via da seguire che quella dell'ostilità aperta. L'hanno voluto loro, malgrado le nostre chiare intenzioni, prima e dopo l'armistizio. Questa frase è sintomatica di come prima e dopo l'armistizio alle forze armate italiane è stato ordinato di non fare assolutamente nulla. Ecco perché si voleva sostanzialmente trovare una captatio benevolentia nei confronti dei tedeschi, nel senso non vi attacchiamo, non vi diamo fastidio, non vi date fastidio a noi, se potete ritiratevi senza particolari inconvenienti perché noi non abbiamo intenzione di fare guerra a voi. Quindi sostanzialmente è una sorta appunto di scaricabarine, nel senso cioè noi abbiamo messo fatto in tutto il possibile a livello sostanziale di impedire una guerra contro la Germania se dei voi tedeschi che ci imponete di combattervi perché noi comunque non avevamo dato ordine a nessuno di ostruirvi. E questa è una mara verità, una mara merità che ci offre uno spaccato di una gestione assolutamente deficitaria, assolutamente impreparata, assolutamente miope di fronte alla realtà delle cose. 13 settembre. Tempo bellissimo come è stata sempre da Roma in poi. Quando entro in ufficio apprendo che un reparto paracadutisti germanico ha liberato Mussolini. Compera di una valigia. ci ragiona sempre sul tipo di affari, di shopping che viene svolto. Scrivo una nota che consegno ad Ambrosio. Vi esprimo il mio punto di vista su diverse questioni e propongo la sostituzione di Lerici con De Stefani, Sozzanussi e quella di Basso corre ai soli. Alla sera si decide per De Stefani. Sper Basso si attende di vedere come si comporterà dopo gli ordini inviati a mezzo di due aerei successivi. Ordino alla settima armata di fucilare senz'altro i comandanti dei reparti che non reagiscono convenientemente alle violenze germaniche che va un po' in contraddizione con l'hanno voluto loro malgrado le nostre chiare intenzioni prima e dopo l'armistizio. Cioè nel senso che non abbiamo dato ordine di chiari di reagire ai tedeschi o quantomeno l'abbiamo fatto in maniera abbastanza temperata, abbastanza sfuggente e quindi si professa, si auspica la fucilazione senz'altro dei comandanti. Il principe viene in ufficio mentre termina la nota di qui sopra. La approva e lo dice poi nel pomeriggio anche a Zanussi. Quindi il principe è consensiente. Arrivano successivamente un radiorobotti, il generale Rocca, comandante del settore di Liplocia, il capo di stato maggiore della Legnano e il pilota del CAT Z506 che avevo a Sussa. Sussac è fiume sostanzialmente. In complesso si apprende, Gambara ha raggiunto il suo posto. Sapremo poi quello che farà Gambara. Robotti con elementi vari si dirige a Venezia, però occupata dai tedeschi o al porto libero vicino. Sesto corpo d'armata attaccato da tre divisioni. All'alba del giorno 9 ha dovuto cedere. Un corpo d'armata cede a tre divisioni. Il diciottesimo corpo d'armata ha concluso a cordico tedeschi che il giorno dopo, recati da Bobbiese, appaiono inspiegabili ed ignominiosi. L'aeroporto di Pescara è in mani germaniche. Che fortuna! Sono riusciti a arrivare a Brindisi appena in tempo. Gli ufficiali di stato maggiore non imbarcati si sono tuttora a Chiedi. L'ufficiale inviato ieri a Pescara in aereo a ricercare detti ufficiali non ha evidentemente fatto nessuna ricerca. A Roma sino alle ore 11 dell'11 calma, però i tedeschi, malgrado un accordo concluso col genere Calvi, la sera del 10, erano penetrati ed avevano occupato alcuni ministeri e le centrali telefoniche. A fruiti verso Pescara da Roma, in treno, moltissimi militari sbandati, senza mostrine e senza stellette. Le radio tedesche dicono che il duce si mette alla testa del fascio di Berlino. È attesa una missione McFarlane, uno dei commissari dell'amministrazione militare inglese, alla quale cederemo l'hotel internazionale. È preavvisato uno sbarco anglo-americano a Bari, in epoca però imprecisata. Seguono duri combattimenti in Campania. 14 settembre. Entrano in Brindisi le navi Scuola Colombo e Vespucci. Visita di Tapino, vicecomandante Legnano, e di Coronati, comandante Viceno, del comandante di presidio di Brindisi, e di un capitano a Mendola, che ha presentato un ottimo promemoria sul servizio di propaganda. Per il momento il più efficace servizio di contro-propaganda al nemico è fatto da Radio Libertà, che da Milano incita militari e civili alla lotta contro i tedeschi. Secondo tale fonte, si resiste bene a Milano, Torino, Pinerolo, Cuneo. Scusate, non mi ricordo se l'ho letto, questo è il 14 settembre. Entrano in Brindisi le navi Scuola Colombo e Vespucci, quindi siamo arrivati già al 14 settembre. Allarmi per la situazione interna di Bari. Si nomina Bellomo Comandante Militare Civile. Su Bellomo potremmo dirne tante, ma vi rimando al video apposito. Cercate il caso Bellomo su questo canale e avrete pane per i vostri denti. Si decide che lasciamo l'Internazionale per una casa dell'Incis. Intanto, mentre la si arreda andremo sull'Abbazia e sul Campidoglio. L'Abbazia deve però essere disinfestata. L'Internazionale verrà la missione anglo-americana, quindi vengono sfrattati dall'hotel. Consegno al Comando Supremo una nota su ciò che desidero sia subito prospettato a tale missione. A colazione conosco il suo capo, il generale Mason McFarlane, governatore di Gibilterra. Il generale americano Taylor, che non ha conosciuto la sera del 7 settembre, e due ministri, un inglese politico e un americano diplomatico. Misure di tenute militare. Gli anglo-americani sono così sommariamente, diversamente vestiti e così trasandati che non c'è da fare complimenti. Perché non ha visto poi gli italiani, perché comunque poi la situazione sarà drammatica sotto ogni punto di vista. Quindi si occupa della forma come al solito roatta e non bada alla sostanza, visto che poi le truppe italiane avranno delle difficoltà inenarrabili, soprattutto le unità ausiliari che verranno vestite in modi improponibili con capi di abbigliamento variegati, presi chissà dove. Compera di un beretto cachi e di altre camicie da borghese, eccetera. Ha la possibilità roatta. Irruzioni tedesche a Trani, fa l'esteta sostanzialmente. Irruzioni tedesche a Trani e Bisceglie, fattaci a Gioia del Colle. Ah no, fattacci, scusate. Fattacci a Gioia del Colle. Arrivate sinora a Taranto, quattro brigate. Vi deve sbarcare l'intero quinto corpo d'armata britannico. Il comandante di visione inglese, ferito a Castellaneta, è morto. Colloquio con Bobbiese sull'inaudito comportamento del diciottesimo corpo d'armata. Bastia occupata dei tedeschi. Qualche torbido a Roma. Risulta che vi è un governatore militare, Calvi, a capo delle forze di polizia, il comandante Lapai. Mac Farlane dice che gli alleati non sono ancora a Napoli. In sostanza sono sbarcati solo nella piana di Salerno, quindi arrivare a Napoli non è semplice, dato l'interposto del Reno. Non potevano congegnare peggio le operazioni. Effettivamente ha ragione. Peccato da quale pulpito che veniva la predica. 15 settembre. Tempo bellissimo e caldo. Lunga conferenza con il generale Mac Farlane e Taylor. Colazione all'internazionale con i ministri inglesi ed americano insieme a Zanussi. Pomeriggio. Altra conferenza con il generale Mac Farlane alla presenza di Ambrosio e Rossi. A quella del mattino aveva assistito Rossi. Pretese del tredicesimo corpo d'armata inglese in Calabria, dovute probabilmente alla non esatta conoscenza della nuova situazione creatasi. Continuano duri combattimenti in quel di Salerno. Un ordine del giorno destinato ai reparti dell'esercito, letto da Ambrosio per estendere alle forze armate, viene poi firmato Badoglio per estenderlo anche ai civili. 16 settembre. Tempo bellissimo e caldo. Rientrano i due aerei inviati in Sardegna con fogli di basso e notizie di magli. Ripresa Maddalena ed attaccati i resti della novantesima nel nord dell'isola. Poco sicura la Lembo, in un episodio interminato è stato assassinato il povero Becchi. Aspri combattimenti in corsia, con il concorso di un battaglione paracodisti francesi sbarcato a piaccio e della popolazione. I tedeschi minacciano l'elba. I resti dell'Emilia hanno lasciato Cattaro arrivando a Bari con una trentina di cetnici. Un reggimento dei Balcani giunto a Pelagosa. Situazione tuttora seria nella piana di Salerno. Un maggiore dell'aeronautica giunto in volo da Roma a Vittorio. Dice che a Roma riprende la vita, le divisioni italiane disarmate e sciolte, tutti gli ufficiali degli stati maggiori eccetera inviati in congeto se non effettivi. Gli effettivi inviati in licenza di tre mesi. Si cominciano a vedere a Brindisi marinai inglesi e soldati americani. Lasciamo l'internazionale con Zanussi eccetera alloggio sull'Abbazia. Molto meno ben fornita di prima. Pochi sono rimasti dei vecchi. Nella mia cabina è rimasta la Madonna, ma sono sparite le ceramiche marinarische. Fondamentali. Presento a McFarlane una nota sulla cooperazione terrestre. Il comando supremo ha assunto una nuova sede. Ha preso contatto con l'intelligence service, per mezzo del quale si mette in relazione con i nostri addetti e centri dei paesi neutrali, ordinando di non eseguire eventuali ordini di carboni, di cui si ignora la sorte. Eccellenza Rosi catturato in Albania, così pure Campioni. Poveraccio, Campioni farà una fine orribile. Secondo i due radio, Cavallero si è suicidato. Perché? Eh, bella domanda. Si parla di un prossimo convegno militare presso Eisenhower. Allora, siamo arrivati al 16 ottobre. Il 17 non c'è, non ha scritto nulla. Chissà, avrà dormito, avrà mangiato, non so, sarà andato a fare compere. Si riparte col 18 settembre. Avremo modo di continuare in questa carrellata di avvenimenti, di curiosità, di sfaccettature, di approfondimenti su tutto ciò che riguarda gli alti vertici politici militari italiani al sud. Non nascondendo, come vi sia da parte nostra, a me da parte mia, non pretendo di intravedere quello che voi pensate, ma dai commenti dei giorni passati ho avuto un po' la possibilità di tastare il polso di chi vede i miei video e onestamente c'è un'amarezza di fondo veramente incredibile, dove c'è, con tanto lassismo, con tanta sfacciataggine, con tanta incapacità, come posso dire, ignavia, ecco, l'ignavia è il termine esatto, diciamo sostanzialmente questi soggetti che hanno portato l'Italia alla rovina e hanno continuato poi nei mesi a seguire, sono sostanzialmente, come diceva un mio vecchio professore, menefreghisti a bulici, nel senso menefreghisti a bulici dove non vi è né la capacità, né la possibilità, ma neanche la volontà di poter in qualche modo risollevare le sorti del paese. Ci si riuscirà sicuramente, si alzerà la testa, bisognerà avere gente nuova a partire appunto dai tre vertici militari, sottosegretario, capoestro maggiore generale e capoestro maggiore dell'esercito, pensiamo appunto a Messe, Berardi e Orlando, che in qualche modo gireranno la pagina e cercheranno in qualche modo di affrontare diversamente i problemi che sono sul tappeto. Poi sicuramente con il nuovo governo civile vi sarà anche una boccata d'ossigeno nel tentativo di tornare a una certa liberalità, liberalismo se non democrazia, all'interno proprio della struttura complessiva del paese, nonostante appunto l'aspetto frazionato, perché appunto sapremo che fino all'aprile del 1945 la situazione sarà drammatica soprattutto per le regioni del nord Italia. Detto questo, come al solo invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima, ciao!